Quindi lei pensa che Conte sia stato scalzato dai poteri forti? Sì, penso questo, non soltanto da alcuni... E chi sarebbero i poteri forti? Per esempio alcuni gruppi forti editoriali nostrani, tra cui il gruppo Gedi, all'interno del quale lavora rispettabilmente Massimo Giannini. Io ho simpatia per Alessandro Di Battista, anche se appunto quando si autorappresentava prima mi sembrava un po' il Nanni Moretti di Eccebombo, vedo gente, faccio cose. Massimo, il paragone con Nanni Moretti te lo puoi risparmiare? Parla di politica e punto. Ma l'ho detto affettuosamente, non volevo in alcun modo insolentire, era solo una battuta. Te lo potevi risparmiare. Lei si poteva risparmiare di dire che io sono in un gruppo editoriale che rappresenta i poteri forti che hanno buttato giù. Io credo Massimo che un tempo quando lavoravo in Repubblica, Repubblica faceva delle battaglie contro l'accentramento di potere mediatico, il gruppo Berlusconi, oggi il gruppo Gedi, che fa capo alla famiglia Elkan, che ha altri interessi oltre a quell'editoriale, a cominciare a interessi finanziari, evidentemente rappresenta un potere forte. Non si tratta di complotto. La parola complotto l'hai utilizzata tu per screditare un ragionamento. Io non mi faccio più screditare. Quali sono le prove? Le prove sono una campagna mediatica che evidentemente per mesi è andata avanti contro un governo precedente che poi io su molte cose ho attaccato e le prove sono state svariate dichiarazioni da parte di Confindustria che è evidente che abbiano un legame con alcuni partiti politici, a cominciare magari dalla lega di Salvini, convincendo Salvini ad entrare in questo governo e ad appoggiare il governo Draghi. Questo è evidente. Negare che esistano queste influenze significa negare la storia.